Rimpotando! Oh no, che stai facendo? No, 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 no! Ehi. Ehi. Mi piace, Totha. Che diavolo sarebbe? Ehi, sai che cosa sembra? Sembra un camion della spazzatura che è stato appena svuotato. E non un camion normale, ma proprio una vera schifezza. È questo che sembra. Grazie. Figurati, è un piacere. Non fa un rumore strano. E che rumore dovrebbe fare un mostro che vive nel capano della tua auto? Probabilmente starà bene. Ok, ma perché si muove in questo modo? Non lo so, è su di giri, ma non capisco il perché. È quello che ha mangiato. La benzina è petrolio, ma come... Delle sostanze chimiche. Ma che... Ok, credo che sia il momento di prendere il controllo. Lascia, io vedo meglio di te. Ehi, che stai facendo? Che fai? Torna dentro. Tripp, trippatando! Oh no, che stai facendo? No, 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 no! Torna subito dentro! Sto guidando io! Ti ho detto, smettila! Oh Dio, ti ha toccato l'occhio! No, 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 no! No, 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 no! Guarda come rifilo quella carretta a quel vecchio in salopenza. No, 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 no! No, 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 no! Ci scusi Ok, nuova regola Maltare benzina la creatura Grazie a tutti